Bene gente, mi sento colpevole per titillare sempre e costantemente il solido punto, ma quando sento veramente e posso vedere chiaramente che i punti di cui si parla sono la verità, di cos'altro pensate possa parlare? Quindi non c'è nessun dubbio che ci sono i terrapiattisti là fuori che sono stati ingannati dal nostro salvatore Elon Musk che salva i nostri liberi discorsi, salva la nostra democrazia nel comprare e riassettare Twitter. Non c'è alcuna sorpresa, mister signore dello spazio. È l'uomo che arriva e parla di libertà di parola. La terra piana, come di consueto, viene sempre spinta in angolo su internet, più possibile da qualsiasi venditore della narrativa tradizionale. Quanta attrazione, pensate, possa fare il terrapiattista per andare sulla piattaforma di mister signore della libertà quando è mister uomo dello spazio, quello che vuole portare l'uomo su Marte. Perché, ancora una volta, la terra piana è la più grande cospirazione che proteggono da qualsiasi cosa. Questo è ammalamente ovvio per i terrapianisti. Ovunque sopra questo piano, loro lo proteggono a tutti i costi. vogliono ed hanno intrapreso guerre per proteggerlo. Vogliono ed hanno iniziato plandemie per proteggerlo. Perché è la verità che distrugge il nuovo ordine mondiale da come è presentato. Distrugge la struttura del controllo dei governi e le sue ali burocratiche chiamate media, scientismo, presentato come scienza e il complesso della prigione industriale, il complesso militare industriale. li distrugge tutti. Perché tutti questi pazzi, clowns, bugiardi continuano a promuovere il falso globo a tutti riguardo a tutto quanto. Questo è globale, quello è globale. Pianeta a globo, globo a pianeta, pianeta a globo. È la sola parola che loro conoscono. Non usano più nemmeno la parola mondo. Ovunque nel mondo deve essere globo o pianeta. perché sono terrorizzati di qualsiasi cosa che la verità innegabile, scientificamente dimostrata, sempre, ovunque ed ancora, la verità della terra piana verrà alla luce e tutti loro saranno giustamente visti come stupidi, clowns e bugiardi come sono e non potranno più averlo perché perderanno il controllo. Il risultato, la fine. Quindi, la sola ragione, mister uomo dello spazio Musk, che è stato spinto per salvare la libertà di parola è per salvare la menzogna del globo e la loro struttura di controllo. Fine. Punto. Questo è tutto. Che Dio vi benedica. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.